Aspetta! Dove vai? Quando fai sport o nel tempo libero, lascia l'infortunio dietro l'angolo. Scegli la giusta protezione. Ritrova la serenità. Affidati a DASIU, la pollizza che garantisce un sostegno economico in caso di infortuni per proteggere te e la tua famiglia. Informati presso una delle nostre filiali. Casse Rurali della Valsugana, le banche della comunità. Affari in crescita per le case in Tesino e in Valsugana. Riparte l'immobiliare. Riparte il mercato immobiliare in Trentino ed in Valsugana. Nel 2017, grazie alla compravendita delle seconde case, le transizioni sono aumentate in media del 16,2%. I dati sono stati resi noto dall'osservatorio del mercato immobiliare e disegnano per il Trentino un mercato a macchie di leopardo. La maglia rosa spetta anche al Tesino, con le transazioni cresciute del 53%. Ma una ritrovata effervescenza del mercato si riscontra pure in Valsugana, con un più 27%. Anche il dato relativo alle quotazioni al metro quadro traccia un panorama variegato. In Tesino, la media è una tra le più alte, parliamo di 2.596 euro. In Valsugana, il valore medio è di 1.853 euro, con prezzi in sostanziale e tenuta rispetto all'anno precedente. In Valsugana, il valore medio il non condizionale